Buongiorno a tutti, un benvenuto ai colleghi giornalisti alla conferenza inaugurale di Venditalia 2016, è la fiera internazionale della distribuzione automatica giunta finalmente alla sua decima edizione. È con legittimo orgoglio che oggi presentiamo questa edizione di Venditalia, che come vedremo durante questa conferenza inaugurale è l'edizione dei record sotto ogni punto di vista. È un risultato ottenuto grazie all'evoluzione del format di Venditalia e anche delle modalità con cui questo format è stato comunicato, sempre più social e web oriented. Evoluzione quindi è la parola chiave che abbiamo utilizzato per questa conferenza inaugurale, infatti il titolo di questa conferenza è una fiera in evoluzione per un mercato in evoluzione. Per spiegare questo titolo e questa conferenza chiameranno a parlare, come vedete nel programma, il presidente di Venditalia Ernesto Piloni, il presidente di Confida Piero Angelo Lazzari, Paolo Andrigo di Accenture e Monica Balocca, consulente di Venditalia. Do quindi la parola al padrone di casa, il presidente di Venditalia Ernesto Piloni. Buongiorno di nuovo, buongiorno a tutti. Ringrazio tutti voi per la partecipazione e ringrazio per la loro presenza il presidente di Confida Piero Angelo Lazzari e Paolo Andrigo di Accenture. Grazie anche a Monica Balocco e Alessandro Fontana, consulenti di Venditalia. Ringrazio lo staff Marina Palandrani, Ariane Castigliego e Rossella Colombo, della segreteria organizzativa e dell'amministrazione di Venditalia e Fabio Lepore dell'ufficio stampa. Con tutti loro negli ultimi mesi abbiamo lavorato duramente all'organizzazione di questa manifestazione. Durante questa presentazione proveremo a capire come sta evolvendo il mercato della distribuzione automatica e al suo interno come sta evolvendo un appuntamento di riferimento a livello mondiale come Venditalia. Venditalia anche quest'anno si conferma la finestra per eccellenza nel mondo del vending, un vero e proprio iub della distribuzione automatica. All'interno del quale si sviluppano relazioni e business, si scoprono novità e trend di mercato e si approfondiscono temi tecnici e tecnologici. Come diceva Sandro, se guardiamo i numeri è un vero successo. Abbiamo venduto quasi 14.000 metri quadri, abbiamo 270 aziende rappresentate e abbiamo ben 21 paesi presenti, dalla lontana Cina alla vicina Francia e Spagna. Ma al di là dei dati e soprattutto la qualità dei suoi contenuti a fare di Venditalia, uno snodo internazionale di incontri e di meeting per il business del vending. Durante le giornate di Venditalia scopriremo infatti 52 novità del settore. Le aziende presenteranno nuovi prodotti, nuove linee e nuove tecnologie. Ed è la caratteristica principale del vending, questa voglia di ricerca e di innovazione che ben rappresenta il patrimonio genetico della nostra fiera. Che mi fa piacere ricordarlo nasce nel lontano 1998 grazie alla voglia di Confida, l'associazione della distribuzione automatica, scegliendo di puntare subito sull'alta specializzazione dell'offerta e delle presenze in fiera. Le novità che scopriremo in questi giorni riguardano le tendenze più promettenti in atto del vending. Dalle tecnologie simil mobile, grazie alle quali le macchine vengono dotate di touchscreen, ai sistemi di accessibilità, in tempo reale ai dati, dove potremo avere i consumi in tempo reale, le abitudini dei consumatori, le fasce di orario, i prezzi e i prodotti che riscontrano maggior successo nelle vendite. Dall'introduzione delle nuove tecniche per preparare il caffè, dalle capsule al sottovuoto per una qualità sempre maggiore e vicina allo standard dei caffè che sempre più siamo abituati a consumare. A innovazioni come il free wifi, le macchine vending, pensate, diventeranno un hot spot nelle zone pubbliche, il riferimento di allaccio potrebbe benissimo essere domani la macchina vending. E l'ecosostenibilità, perché l'ambiente è vicino e noi abbiamo bisogno di gratificare chi ricicla correttamente con un abbattimento del costo del consumo al distributore automatico. E poi i progetti di sostenibilità e inclusione sociale come progetti come Kikko Kotton Lus per il quale il vending diventa una possibilità di inserimento nel mondo del lavoro per i ragazzi diversamente abili. Il vending è un mondo in continua evoluzione e secondo me questo fermento e questa ricerca continua dell'innovazione concorrono senz'altro a rendere il vending un settore in grado di attrarre un numero sempre crescente di realtà produttive. Non a caso infatti i settori merciologici rappresentati, pensate, sono ben 19. e abbiamo scelto di ideare e realizzare uno spazio apposito per le aree new entry, perché il vending richiama sempre più attenzione per i settori che ancora vogliono partecipare. Mi sembra quindi quanto mai calzante un titolo che abbiamo voluto dare a questo incontro inaugurale, una fiera in evoluzione per un mercato in evoluzione. Ma ora è tempo di entrare sempre più nel merito del settore e per questo lascio la parola a Piero. Il Presidente Venditalia parlava di 52 novità. In realtà solo guardando ai padiglioni frettolosamente stamattina all'apertura alle nove e mezza visitatori abbiamo notato che ci sono tantissime novità che non sono state comunicate al mercato. Questo perché gli espositori hanno deciso di fare un'anteprima e di comunicare da oggi sui loro siti internet e in conferenza stampa le novità. Questa è una cosa nel tempo di internet, del web e del social, una cosa incredibile. La fiera Venditalia è stata capace di ritornare alla sua funzione primordiale, quella di presentare le novità in fiera. È una cosa che non succedeva da tempo ma abbiamo visto ad esempio dei sistemi di trattamento dell'acqua innovativi che vengono pubblicizzati per la prima volta oggi così come dei software. Il Presidente di Venditalia parlava che nel 98 la distribuzione automatica con Confida decideva di fare una fiera. È stato un atto di coraggio incredibile. Tutta la filiera viene rappresentata e per parlare di Confida e del settore niente di meglio è che del Presidente di Confida, Piero Angeli Lazzari. Meglio Sandro, sei proprio un amico, esageri sempre. Anzitutto desidero rinnovare il mio saluto a chi non l'ho potuto salutare personalmente e desidero anche salutare, spero che i faretti non mi impediscono di vedere tutti quelli presenti, comunque gli amici di ANEDA, dell'Associazione Spagnola, spero di non dimenticare altre associazioni. Entro subito nel nostro vivo di questa conferenza stampa, anzitutto facendo i grandi complimenti a Venditalia, non è solamente di maniera, ma lo faccio veramente con entusiasmo e col cuore perché so quanto il Presidente Ernesto Piloni l'abbiamo prima motivato e portato a fare perché è un imprenditore praticamente impegnato in azienda e lui ha vissuto subito questo suo importante ruolo, questa sua responsabilità e devo dire che lui, il suo staff e quindi i nomi Monica, Sandro e la struttura operativa, quindi Marina, Arianna, sono stati eccezionali perché hanno creato ulteriore valore aggiunto, quindi Ernesto, magnifici, avete creato ancora di più rispetto a quelle che, voglio dire, sono state fatte in passato e questo è bellissimo, è molto bello, è molto positivo perché significa che non solo ci sono energie nuove, qualcuno io mi ricordo, lo devo dire poi, le cose ce le diciamo, ma perché tu hai lasciato Venditalia ad altre persone, non sei Presidente di Confide di Venditalia? No, perché ognuno è bello quando fa il proprio lavoro, perché ognuno è bello quando porta il valore aggiunto, perché ognuno è bello quando crea, quando dà il suo, quando dà valore aggiunto e quindi io devo dire e testimoniare che in questa edizione c'è un bel valore aggiunto, quindi bravi complimenti, bravissimi. Ecco, poi io l'altra considerazione che faccio è quella che io vorrei rimanere qui, nel senso che quando poi vai fuori salone o stai fuori, il settore, la vita associativa e ti porta anche altre considerazioni. Qui è qualcosa di meraviglioso, qui vedi gli stand, quindi vedi le cose ben realizzate, qui vedi le persone che hanno il sorriso, che si incontrano, parlano, è da fare e così via, ed è bello, è giusto che sia così. Poi quando vai in associazione ti trovi altri tipi di problemi, per carità va bene così, però francamente quello che io dico, Ernesto, nella tua continuità di Presidente, il tuo staff e così via, ecco, cercate di pensare anche al fatto di portare altre persone che non siano quelle del business, ma tutto quel mondo esterno che non ci conosce, perché francamente avere a che fare con situazioni, io comincio a dirvi, poi dopo devo fare dei ragionamenti più articolati in assemblea, quindi adesso faccio solo degli sprezi così, se no poi mi brucio tutta l'assemblea, quindi non è opportuno, oppure vado troppo lungo con il mio parlare. Cioè quando vedi che all'esterno c'è un contesto che non è favorevole al vending, ma io mi chiedo perché, ma perché non vengono a conoscerci? Quando vedi che a livello nazionale ci sono movimenti di restrizione a quelli che sono i prodotti più tradizionali del vending, ma perché? Allora io posso capire che ci sono altre categorie che hanno difficoltà, ci sono agricoltori che hanno i problemi di come commercializzare i loro prodotti, ma io mi chiedo perché non vengono a conoscere invece quello che di positivo è il vending. E allora perché certe campagne di comunicazione, perché certe proposte di legge che vanno nella direzione di dare delle costrizioni a questo settore? Viva Dio, io non riesco a capire, poi per carità non è un riferimento partitico, ma è oggettività di cose, ci sono messi anche quelli del Movimento 5 Stelle a fare delle emozioni nelle diverse regioni, vedi regioni Liguria, vedi regioni Piemonte, qui si fa una concorrenza anche con i partiti di governo, per andare a prevedere delle restrizioni contro i prodotti della distribuzione automatica e posti nelle scuole, per cui olio di palma piuttosto che snack, piuttosto che bibite gasate e così via. Ma vogliamo pensare che comunque la distribuzione automatica non arriva al 10% di tutto il consumo che viene prodotto in termini di snack, di bibite, di prodotti più tradizionali della distribuzione automatica. Perché questo? Ma questo non ha senso. Voglio dire, allora c'è un'altra considerazione, quella che vogliono fare, quella di attribuire all'ambiente scolastico quella che chiamano educazione alimentare? E voglio dire, io mi chiedo se è la scuola il luogo deputato, se non siano piuttosto le famiglie a essere invece responsabilizzate di questo tipo di educazione. E allora pensare che con una pausa scolastica di mezz'ora o 10 minuti che può essere creiamo l'obesità nei ragazzi? Ma voglio dire, ma siamo impazziti. E consentitemi, io so che qui ci sono i media, sono presenti nella stampa, ma non è più il tempo di tacitare le cose, bisogna cominciare a dirle, io prendo l'occasione di cominciare a dire, intanto che mi importa? Io preferisco la verità a quello che può essere tante volte la convenienza. E allora questo, diciamo, è il ritorno a vedere questo ambiente. Se potessimo portare le persone a vedere questo ambiente, io penso che cambierebbero veramente la loro opinione. Perché qui c'è un fiore all'occhiello del Made in Italy, il 70% viene esportato dai distributori automatici di sistemi di pagamenti. Qui ci sono delle industrie di marca, di prodotti alimentari, di bevanda che all'estero si sognano, ma perché fanno ricerca, perché fanno qualità. E allora perché questa voglia di farci male da soli? Perché qui ci sono imprese di gestione che sono il modello di riferimento anche per tanti gestori che sono in Europa. E allora mi chiedo perché questo? Ecco, allora voi capite, adesso devo andare un po' a termine, se no, diciamo così come ho detto prima, prendo un po' di spazio, mi faccio prendere un po' dalla voglia di dire tante cose, tante altre cose. Ma voglio dire, allora venite a vedere questa realtà, venite a respirare l'aria che si respira qui dentro. E allora potremmo apprezzare questo settore che è un settore made in Italy, che è un settore che è un fiore all'occhiello. E voglio dire, adesso noi saremo chiamati anche un impegno di settore che non è da poco, che è la certificazione dei corrispettivi. Io devo dire che qui l'associazione ha fatto il suo lavoro, sta facendo il suo lavoro, lo sta facendo nel migliore dei modi che le è stato reso possibile. Quindi siamo intervenuti sull'aspetto normativo e siamo seduti con autorevolezza al tavolo del confronto tecnico con l'agenzia dell'entrata. Ma perché? Ma perché qui al confronto tecnico, perché qui in confida, perché in questo settore ci sono aziende autorevoli. Tant'è che il confronto è venuto sulla base delle proposte che sono uscite da questo settore. E allora io ecco vado verso veramente la chiusura. Allora ringraziamo e veramente apprezziamo il lavoro che viene portato anche attraverso Venditalia perché io penso che non solamente può essere l'occasione forte per incrementare i rapporti commerciali, per presentare le novità, ma sarà anche un momento forte in prospettiva per dare visibilità alle istituzioni, ai consumatori perché no, ma soprattutto a chi sono gli stakeholder di questo nostro settore che vengono a tutte le carte in regola per avere il diritto di cittadinanza nell'economia del nostro paese. E francamente ne sono orgoglioso. Grazie. Grazie Presidente per aver descritto così bene il nostro settore, ma ancora di più per descrivere questo settore, per descrivere un mercato in evoluzione, credo che bisogna analizzarne i numeri e che cos'è la distribuzione automatica oggi. E non penso a persona migliore di Paolo Andrigo di Assento. Grazie mille Dottor Fontana e buongiorno a tutti. Vorrei iniziare innanzitutto a fare una fotografia di questo settore in evoluzione, come dicevamo prima. Oggi ci sono tre grosse realtà in movimento o tre grosse assunzioni da fare. Prima di tutto il mercato del vending sta cambiando. Se pensiamo al mercato del porzionato che nel vending viene chiamato CS, una volta c'era la gestione che portava negli uffici la capsula di caffè. Negli ultimi anni sempre di più ci sono dei canali alternativi che portano negli uffici il caffè. C'è la grande distribuzione, c'è il canale e-commerce, ci sono negozi specializzati che vendono capsule. Quindi gli uffici si tendono a strutturare per comprare in autonomia i loro prodotti e non prendere di più dalle gestioni. Quindi la gestione si trova ad operare in un mercato che era diverso rispetto a quello di anni fa. Anche nel vending la realtà sta cambiando. Ci sono degli operatori nuovi che entrano a far parte di questo settore. C'erano sempre stati ma stanno investendo in modo diverso. Chi gestisce le mense, le aziende di catering, le società di facility management, negozi 24 ore. Quindi è un business che comunque attira. Nuove realtà entrano per gestirlo. Per capire i numeri inoltre vanno considerate altri due elementi. Il primo è che nel 2015 ci sono i più giorni lavorativi rispetto al 2014. Quindi se si vedono i numeri in proiezione ci sarà un andamento influenzato da questa tendenza. Il secondo è la temperatura elevata. Luglio del 2015 ha avuto una temperatura molto più alta del luglio 2014. Questo ha contribuito in modo notevole all'aumento delle bevande fredde. La nostra ricerca si è focalizzata quest'anno, a differenza dell'anno scorso, a divisione quindi di due grossi mondi. Il mondo dell'automatico, quindi delle vending machine del distributore automatico, e il mondo del porzionato. Non parliamo più di OCS perché, come dicevo prima, ormai questo mercato di riferimento è cambiato. Nel mondo del porzionato abbiamo fatto una divisione per tipologie di prodotto venduto. La capsula B2B, la capsula B2C o le cialde ESE che sono le cialde in carta. Poi ho fatto un focus invece su chi produce i beni, quindi bicchieri e palette, i filtri d'acqua che sono i beni consumabili, i fabbricanti intesi come sistemi di pagamento e vending machine e chi produce boccioni o software gestionali che sono aziende di servizio per il vending. Vediamo i primi numeri. Con le considerazioni di prima abbiamo un fatturato che ha aumentato rispetto al 2014 del 3,8%. In termini di consumazioni l'aumento è stato del 3,4%. Parco macchine è stato abbastanza stabile, più 1,5%. Se guardiamo i numeri di dettaglio per categoria, si può scomporre questo 3,4% dell'aumento di consumi nelle sue sottoparti. Il caldo è aumentato dell'1,8%. Le bevande fredde, soprattutto guidate dalle alte temperature di luglio, sono aumentate del 10,5%. Tra le bevande fredde il driver principale è l'acqua, che è aumentato il 10%, ma sono aumentati, causa al caldo, anche molto gli sport drink. Mentre altre bevande, tipo le bevande gasate, hanno avuto un aumento più contenuto, anche se sono aumentate, tra le quali la cola, ad esempio, è molto più piatta. Tra le bevande gasate, l'anno scorso, la bevanda all'arancia, grazie all'introduzione di alcuni prodotti nuovi sul mercato, ha avuto un'impennata che negli anni precedenti non c'era. Negli snack c'è stato un aumento più contenuto, dell'1% circa. Nel particolare negli snack, nei prodotti al cioccolato, c'è stato un decremento delle tavolette, dovuto a un cambio di referenze nel mercato. Mentre i gelati e i pasti pronti hanno comunque un peso residuale nel canale, anche se i pasti pronti, anche in questo caso per l'introduzione di nuove categorie, di nuove tipologie di assortimenti, hanno avuto una crescita importante. Questo era il numero totale mercato, che ha influenzato quindi da temperature, da nuovi operatori che entrano e da un nuovo business. Se però guardo il business a pari perimetro, quindi analizzo la stessa macchina anno su anno, quindi non considero tutti gli altri fenomeni, i giorni lavorativi, nuovi operatori che entrano, la stessa macchina in realtà ha avuto un andamento a valore stabile. Vediamo che l'incremento in volumi, qui è stato spaccato l'aumento del valore dal 2014 al 2015 in tre sottocategorie. È aumentato a caso di una variazione di volumi, è aumentato o diminuito a caso di un impatto degli assortimenti, o è aumentato o diminuito a caso dell'aumento dei prezzi. In questo caso vediamo che il settore è stabile, più 0,02, quindi con un'incidenza del meno 0,6% dei volumi, del 0,2 assortimento e un più 0,5% dei prezzi. Questo ci porta a dire che a pari macchina l'andamento è stato stabile. Se guardiamo alle singole categorie, vediamo che a pari macchina il caldo è diminuito dell'1,5% in volume, mentre sostanzialmente è rimasto stabile a livello dei prezzi. Le bevande fredde sono comunque a pari macchina aumentate del 4,1%, quindi più del 4%, la stagionalità comunque anche sulla stessa macchina, a pari macchina, è influenzato. Gli snack invece sono calati del meno 3,1%, quindi l'1% di prima è stato influenzato comunque da diversi operatori, da giorni lavorativi in più. A pari macchina, a pari periodo, c'è un meno 3,1%. Diciamo prima, il mercato del porzionato cambia, questo perché l'ufficio oramai sempre di più non c'è il titolare dell'ufficio legale, il titolare dell'ufficio del commercialista, come accadeva una volta che compra le capsule per i dipendenti. In momento di difficoltà la capsula caffè che prima era regalata al dipendente viene detto adesso te la compri, ti serve da solo. Questo ha cambiato anche il modo di affrontare questo business all'interno degli uffici e si sono creati dei concetti nuovi quali le coffee communities, quindi gruppi d'acquisto. Mentre prima era il buyer all'interno dell'ufficio che comprava le capsule e quindi si rivelteva la gestione, oggi sempre di più c'è una persona all'interno dell'ufficio che si prende la responsabilità di acquistare le capsule di caffè, penso capiti in tutti i nostri uffici e raccoglie i soldi dai colleghi. Questo ha un impatto su come questo mondo sta funzionando. Il terzo evento che sta influenzando questo settore è l'incidenza del caffè lungo. Ha fatto un giro prima tra i vari stand e si vedono già alcune torrefazioni che stanno spingendo alcune macchine con il caffè lungo, sia nella parte OCS sia nella parte vending. Il caffè lungo è influenzato per esempio in Nord America anche dalle introduzioni di alcune macchine che producono solo caffè lungo, piuttosto, è notizia ormai nota, Starbucks sta entrando anche in Italia. Quindi c'è comunque una tendenza al consumo che si sposterà verso questa nuova tipologia di prodotto, che era un po' in antice rispetto alla storia dell'espresso italiana. Questo influenzerà soprattutto nel prossimo anno i consumi delle persone. Questo crack però è una commissione perché abbiamo, come dicevo prima, non più un mercato del porzionato che è servito solo dalla gestione. Abbiamo un mercato del porzionato che si trova ad avere gestioni che servono le famiglie, piuttosto che abbiamo del city commerce, retail e negozi verticali che servono gli uffici. Quindi ci troviamo in un nuovo ambito competitivo che nel porzionato mette un po' tutti contro tutti. Quindi qual è il vero mercato di riferimento per la gestione, non è più solo il mercato della gestione, ma è il mercato del porzionato. La porta a competere con dei nuovi operatori, con la grande distribuzione, con i city web, i city commerce, con negozi verticali che vendono sia capsule proprietarie sia capsule compatibili, che è l'altro fenomeno che sta crescendo. Facendo delle indagini su 600 uffici italiani, divisi sia nord sul centro e anche per tipologia d'ufficio, abbiamo raccolto su 600 uffici una tendenza che oramai il 30% degli uffici aziende dichiara di non acquisire più macchine, di non fare più un contatto con la gestione. In realtà la domanda è stata, ma voi comprate la macchina o l'avete ricevuto e incomodato? Perché il fatto di averla dalla gestione non per tutti era chiaro. Il 30% dichiara di comprare la macchina, quindi andare o in un negozio specializzato o su internet e comprarsi la macchina. D'altro canto anche la gestione serve il consumatore finale, quindi abbiamo un 13% di gestioni o operatori del vending che servono le famiglie. Questo va a giustificare la commissione che vedevamo prima. Di qui abbiamo provato, questa è la prima volta che viene fatto, a stimare il mercato del porzionato in Italia. Quindi quanto caffè in capsule o in cialde c'è nel mercato italiano? Ne emerge un numero che è abbastanza impressionante, perché diciamo che 5,6 miliardi sono le capsule vendute nel territorio italiano. Tenete conto che molti produttori di torrefazioni esportano anche all'estero, quindi questo è un numero del mercato italiano. Molti dei torrefatori che vanno in Italia riescono a esportarlo. In Italia siamo tra i primi produttori di capsule vuote per il caffè. Penso ai marchi di riferimento a livello europeo, la capsula vuota, che poi viene venduta alle diverse torrefazioni per riempirla con il caffè delle torrefazioni, la leader nella produzione italiana. Di qui abbiamo capsule B2B che siamo attorno a 1,9 miliardo, 2,5 miliardi sono le capsule B2C e circa 1 miliardo sulle cialde in carta. Sommando i due riferimenti, sulle capsule B2B in realtà guardiamo solo al mercato OCS delle gestioni, abbiamo un calo del 7%, quindi la gestione sul porzionato sta soffrendo, perché ci sono altri attori che stanno prendendo quote di mercato, quindi i siti e-commerce, la GDO, negozi specializzati stanno entrando negli uffici. Il meno 7% della gestione, qualcuno dice che siamo stati verso la doppia cifra, l'anno scorso c'era meno 10,84. Evidenza questo spostamento. Totale mercato in unità, quindi in consumazione, in colpi o battute o come si chiama nel settore, è alla fine di 10 miliardi circa, per un fatturato che è stimato attorno ai 3 miliardi e 4, inteso come automatico più porzionato, appunto perché ormai questo settore va visto in modo allargato. Se consideriamo le prime 10 gestioni, rappresentano all'incirca il 20% di questo valore del fatturato. Alcuni trend che poi abbiamo evidenziato. Parlavamo prima di ecosostenibilità, impatti ambientali. Sicuramente un trend che va a spostarsi è quello dei bicchieri. Nel prossimo anno sempre di più si inizieranno a produrre prodotti ibridi, che hanno un basso impatto ambientale, quindi il vending è sempre più attento anche all'impatto ambientale. Si inizieranno anche a diffondere dei bicchieri in cartoncino, anche se è una tiratura più bassa rispetto all'ibrido, soprattutto perché ci sono alcune macchine, la dual cap, che inizieranno ad usare questo tipo di prodotto. Anche su sistemi di pagamento, dicevamo prima, l'innovazione, il digitale, i servizi. Una volta il sistema di pagamento forniva il ferro, cioè quindi la soluzione dove inserivo la moneta, che era qualcosa che viene inserita all'interno del distributore automatico. Oggi sempre di più, e facendo un giro questa mattina, hanno viste diverse, che sono presentate proprio oggi, il sistema di pagamento offre anche servizi. Cosa sono questi servizi? Vuol dire telemetria, quindi vedere la macchina in tempo reale, vuol dire lo sviluppo di app, app per gestire sia il contatto del consumatore, quindi diventa l'app una sorta di loyalty del vending, ma anche per gestire le forme di pagamento. Oppure integrazione con pagamenti bancari e con lo sloop, quindi pagamento di prossimità, con varie forme, badge piuttosto che l'app stessa. Questo dimostra anche in quest'area, quindi nell'area di pagamento e del digitale, come questo settore sta evolvendo, sta cambiando. Questo era l'ultima slide. Grazie Paolo, lascio dopo a Monica metterci la sua presentazione. Si parlava quindi di mercato in evoluzione e vediamo come la fiera ha seguito questo mercato in evoluzione, evolvendosi a sua volta. Quindi una fiera in evoluzione. Quindi chiamo sul palco Monica Balocco, consulente Venditalia. Buongiorno a tutti. Vi racconto velocemente quelli che sono stati i punti dell'evoluzione per Venditalia, su cui abbiamo lavorato e i risultati a cui siamo arrivati. Partiamo dalla comunicazione. Il nostro primo lavoro è stato sul riposizionamento della nostra fiera. Ci siamo chiamati Venditalia, Worldwide Vending Exhibition, perché siamo la fiera italiana di riferimento, ma siamo la fiera più grande a livello internazionale. Questo credo sia un banto per il nostro Paese, per cui la distribuzione automatica è un po' il fiore all'occhiello. Quali sono le particolarità di questa fiera? Innanzitutto la specializzazione. Veramente qui troviamo il vending, ma troviamo tutto il mondo del vending, con l'intera filiera, dal produttore fino al distributore, con tutto quello che troviamo nel mezzo della nostra filiera. Come diceva prima il Presidente di Confida, vorremmo arrivare al consumatore. Questo è il grosso challenge per le prossime edizioni. Ma i numeri ci confermano come la più grande fiera italiana e internazionale del vending. Questo grazie anche a delle partnership che abbiamo fatto quest'anno e che avevamo in parte anche negli anni passati, con 15 media partner che ci hanno sostenuto nel nostro percorso di comunicazione, diciamo da settembre scorso fino ad arrivare a questa fiera. Con oltre, i dati non sono aggiornatissimi, ieri abbiamo superato le 100 uscite pre-fiera, e un tentativo già quest'anno di iniziare a parlare con il nostro consumatore. Hanno parlato di noi, delle riviste e delle televisioni importanti, Corriere Economia, Milano Finanza, Italia Oggi, il Sole 24 Ore, e il Tg regionale su Rai3 con un'intervista a Piero Lazzari. La sfida più grande oggi è di passare in primis all'engagement con i nostri interlocutori, ovviamente in un settore che oggi è ancora molto B2B, un domani sarà quello di arrivare al B2C. Vi invito a seguirci sulla nostra pagina Facebook e su Twitter, dove avremo anche il live tweeting delle nostre conferenze. Comunque siamo molto contenti perché devo dire che su Twitter c'è un movimento da parte di tutti gli espositori e dei partecipanti, e quindi insomma potete seguire lì che cosa succede a Venditalia in questi giorni. I servizi, abbiamo innovato anche nei servizi, ne abbiamo parlato durante gli stati generali del vending, e comunque in tutti i mesi di comunicazione, quindi andrò molto veloce, ma ci sono state alcune innovazioni come l'area new entry, dove alcune aziende che vogliono approcciare questo mercato sono presenti in un format snello che gli permette appunto di iniziare ad incontrare gli operatori di questi settori, con possibilità dedicate invece agli espositori, di affittare magazzini e sale e riunioni. C'è una recharge area, sempre vicino all'area new entry, e un kindergarten per i bambini dai 6-12 anni, per permettere comunque agli operatori di poter visitare la fiera in maniera un po' più free. E grazie a un accordo con Ventana, anche l'offerta Travel Hospitality, che sono online da qualche mese sul nostro sito. Passiamo invece alla partecipazione, che poi è la cosa più importante, quindi siamo riusciti a coinvolgere gli espositori, e oggi la sfida più importante è quanto riusciremo a coinvolgere invece i visitatori. Quindi i primi numeri ci danno già dei risultati in positivo rispetto al 2014, in termini di visite dalle 9.30 alle 12.30 di stamattina. Ma invece in termini di partecipazione espositoria siamo molto soddisfatti. L'Italia ovviamente continua a essere il paese di riferimento di questa fiera, ma quest'anno abbiamo coinvolto 21 paesi, che coprono comunque tutti i continenti rappresentativi per questo tipo di consumo. Ma soprattutto abbiamo avuto dei risultati veramente significativi. 270 espositori, quindi il 20% in più rispetto all'edizione del 2014, e 13.700 metri quadri espositivi, 18% in più rispetto sempre al 2014. Questo ci fa ben sperare, perché ovviamente rappresenta veramente l'interesse che da parte delle aziende c'è verso questo settore. Abbiamo anche notato la qualità degli stand espositivi, che secondo me rappresenta un altro fiore all'occhiello di questa manifestazione. Quindi come si presentano le marche, quanto ci tengono le marche a presentarsi bene. E poi i convegni. Questo è il primo anno che abbiamo una sala conferenze, a parte ovviamente la conferenza stampa che c'è sempre stata, ma alcuni degli espositori, e confida per un tema molto importante, ci hanno permesso di realizzare un palinsesto convegni, che è stato comunicato sul sito e nella fiera, ma in particolare oggi, dalle 2 alle 3, ci sarà la conferenza stampa di Caster Technology e Paytipper. Dalle 16 alle 17, sia oggi che domani, Michele Volve di Confida, ci guiderà attraverso quello che è lo stato dell'arte ad oggi, relativamente alla certificazione dei corrispettivi. Domani, dalle 11 alle 13, c'è una conferenza Il futuro del vending e l'experience, opportunità, minacce e proposte, è una presentazione di una ricerca condotta dall'Università Bocconi su incarico di Lavazza, Necta, Global Vending e IWS. Dalle 16 alle 17, di nuovo il convegno dei corrispettivi, e venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 15, un workshop di Intel e Ingenico sui sistemi di pagamento integrati sulla prossima generazione di piattaforme per distributori automatici. Quindi comunque un inizio di un palinsesto convegni che ci fa anche qui ben sperare per il futuro. Ovviamente invito tutti voi a partecipare. L'innovazione, parlavamo prima di 52 anteprime, queste sono quelle che sono state registrate sul sito Venditalia dagli espositori, probabilmente sono molto di più, ma per noi è veramente importante che in questa fiera rimanga un momento comunque di business, in cui gli operatori e le aziende, quindi la produzione e la distribuzione, si incontrino per fare business, anche per fare relazioni, ma non solo per fare relazioni, perché dobbiamo parlare anche qui di numeri. Quindi 52 anteprime che vanno dai nuovi prodotti alle nuove macchine, alle nuove tecnologie, piuttosto che all'ecosostenibilità, che sono un po' i temi caldi di questo periodo. Adesso cercheremo di aggiornare questo numero per avere veramente il sentiment di quello che è. E poi la nostra stella più bella, non c'era la sesta punta, ma avevamo la stella doc, quindi la cena di gala, che è stata rivisitata quest'anno un po' nei contenuti, che si terrà venerdì 6 maggio, a cui parteciperanno ad oggi 700 ospiti, e che prevede comunque un programma abbastanza particolare, un aperitivo comunque sotto le stelle all'aperto, una cena curata da uno chef stellato, un musical dal vivo, il DJ set e l'open bar fino alle 2 di notte, come dico, per gli irriducibili, di cui ovviamente farò parte. E a questo punto, grazie, Angel e Venditalia, rilascio la parola ad Alessandro Fontana. Ecco, solo un minuto in chiusura per questa data. Venditalia 2018. Lo staff che ha lavorato a Venditalia, a questa edizione, ha incominciato a lavorare circa 10 mesi fa. Ci siamo subito reso conto dell'enorme potenzialità di Venditalia. Per noi il successo, più 20%, circa, dell'edizione precedente, è assolutamente un punto di partenza e non certo di arrivo. Noi pensiamo che questa fiera possa davvero dare tantissimo di più e nelle prossime edizioni raggiungere risultati ancora più ambiziosi. Per questo ci sarà senz'altro un lavoro preparatorio, anche per Venditalia 2018, dove pensiamo di aumentare le categorie merceologiche, di aumentare l'internazionalizzazione, quindi aumentare gli esteri che verranno sia come espositori che come visitatori, ma anche cercare dei punti di appoggio con la grande distribuzione organizzata, con lo street food, con il mondo dell'oreca. Tutti i mondi che gravitano e sono vicini alla fiera che potrebbero essere intercettati e sempre assolutamente con una matrice vending. Vi dico quindi buona fiera a tutti e benvenuti ancora a Venditalia. Grazie.